È una persona eccezionale, io ho avuto l'onore di lavorare insieme a lui quando era assessore nella mia prima amministrazione, aveva delle deleghe importanti sulla formazione, sull'aspetto scolastico e devo dire che è una persona sempre precisa, responsabile, intelligente, è una persona che ricordo veramente con grande attenzione e grande stima. Una notizia è arrivata all'improvviso che ha lasciato in tutti coloro che hanno conosciuto Dennis Farnea un vuoto enorme. 49 anni, ex vicensidaco di Cavaso ed ex assessore provinciale al lavoro nella prima giunta di Muraro. Farnea si è spento ieri pomeriggio a causa di una grave malattia che aveva scoperto pochi mesi fa. Nonostante la diagnosi aveva reagito con coraggio alle cure, sostenuto dalla moglie dei due figli di 9-13 anni, ma le sue condizioni sono poi peggiorate fino a ieri quando il cuore ha smesso di battere. Oggi coloro che l'hanno incontrato nel suo percorso politico e umano piangono l'uomo e le sue grandi qualità, come ricorda Marina Marchetto Aliprandi, che conobbe Farnea nel 96, quando lui era poco più che un ragazzo. Lo conobbi proprio per la sua come persona molto concreta, preparata, pacata. Per la concretezza, per la disponibilità immediata, io sapevo che potevo contare su di lui. Attualmente Farnea era direttore della casa di riposo di Crespano, un incarico che Marchetto Aliprandi ricorda ricopriva con grande umanità. Ve lo voglio ricordare proprio per la sua umanità, perché aveva sempre a mente gli ospiti, che non erano per lui ospiti, erano quasi familiari. Dopo esperienze in provincia aveva ricoperto altri incarichi in regione ed è allora che le strade di Farnea e Muraro si erano incrociate nuovamente. Ogni volta che ci trovavamo era veramente un grande piacere poter riconoscere una persona che ricordo veramente con tanta stima, perché era una persona intelligente. Muraro ricorda l'ultimo incontro con Farnea e non nasconde il rimpianto di non averlo potuto salutare ancora una volta. Ci siamo trovati circa un anno fa in un'occasione di un incontro fuori con altri amici e per cui mi dispiace tantissimo per quello che è capitato e purtroppo noi siamo stati magari un po' più vicini proprio in questi momenti.